Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con un nuovo cast, io sono Blackforce, spengo il ventilatore perchè altrimenti faceva un casino della madonna e veniva tutto... quindi meglio spegnerlo e morire di caldo, ricordate sempre, queste sono leggi importantissime della vita oggi torniamo con Starcraft, poi farò Heroes of the Storm, ho fatto Airstall, un Blackforce multitasking in tutto e per tutto come sempre andiamo con Starcraft, abbiamo Vibe per il lato Zerg contro un MC Gregor mi pare, forse si e entrambi dei pro di Heroes of the Void ovviamente oggi vedremo, mi pare, che fosse questo il replay ma non ricordo bene una giocata da parte dello Zerg dove andrà pesantemente con le Queen a seguire con una giocata standard di Ling per poi sfuggere nelle ultralischie e arare il Terran e quel Terran potevo essere anche io arato in quel modo perchè non le riesco a gestire le Ultra ho provato a guardarmi qualche apertura Terran particolare su LEGO Street Void ma non è che abbia trovato granché e quindi sono sempre in quella fase dove mi piace giocare abbastanza con le regole d'oro ormai le chiamo così da diverso tempo, credo che tutti le conosciate piuttosto che andarmi a guardare una build per quanto possa essere efficace, per quanto possa avere un timing attack incisivo eccetera vediamo un po', il Terran parte con un Reaper in produzione ovviamente deposito a 14, caserma e subito raffineria dall'altra parte uno Zerg che va ad expare possa, si exposta con presentemente l'estrattore per prendere il gas probabilmente per fare la speed per i Ling come andremo a vedere Queen, subito la regina in produzione vedremo quante regine andrà a utilizzare se questo replay mi pare fosse una giocata di Eevee Queen regine che sicurano fra di loro, sapete sempre le solite schifate due resine, una per vivaio, produzione il Terran va con il suo Reaper a scautare dove può essere lo Zerg e intanto va a fare delle Elyon probabilmente da questa fabbrica dato che sulla caserma ha fatto un reattore oppure proverà, non so, giocata di mine per fare un drop in Blackforstile così per chiamarlo da quest'altra parte la base di espansione del Terran è praticamente finita lo Zerg vola col suo sorvegliante a scautare il Terran lo Zerg è andato subito lì praticamente, si, ne ha mandato uno da una parte e uno dall'altra se lo non è qui e qui, più o meno lo becchi nello stesso momento, questa base è un po' più lontana se non è da una parte ovviamente sarà in cross position non mi ricordo se si può spawnare in cross position su questa mappa però secondo me si può spawnare solo così o così ma non ricordo, attenzione infatti non va a fare Elyon ma a fare una giocata un po' più fantasiosa mi pare di vedere intanto Reaper, Scout a terza base dello Zerg Marine, da reattore, bunker, tank e medievac vediamo un po' andrà subito a far pressione col tank e la medievac probabilmente utilizzando il tank in siege questa giocata devo dire è abbastanza safe soprattutto per la presenza di questo bunker e questo tank che reggono tutto quello che può farlo Zerg però ti rallenta e si, questo tank che può essere mosso in siege dalla medievac permette una giocata di questo tipo anche in una fase offensiva della strategia però ecco non è, a mio parere, incisiva come come Elyon eccetera soprattutto per il controllo del creep qui il tank viene sollevato dalla medievac questo previene anche eventuali olyndi, ling che circondano il tank eccetera e ora andrà a far pressione con questo tank si troverà questo tank ad affrontare delle regine che vengono sciolte dal tank con la medievac può anche prendere visione questa è una giocata comunque abbastanza microintensive soprattutto anche per quanto riguarda il multitasking si va a spingere molto intanto dovrebbe esatto mettere giù la terza base di espansione e continuare a fare caserma non è male comunque come apertura devo dire you like queen buff? ah si hanno con una patch più o meno era abbastanza una patch nascosta modificato le regine buffandole ecco male hanno abbaffato le regine l'attacco delle regine e qui è il tank la medievac il tank hanno subito questo buff e qui si va addirittura speak of the devil esattamente qui si va ad utilizzare proprio questo buff alla regina menando pesantemente qui 3, 4, 5 regine 6 regine più 7, 8 regine ragazzi sono in immensità terza base quarta base ovviamente non va a prendere questa base anche perché il tank ti spara da qui a qui con la visione della medievac perdendo la medievac e il tank il turn ha iniziato veramente in salita la partita tra l'altro questo è un momento nel quale è abbastanza vulnerabile se lo zerg fosse andato per una 3 base all in il terreno avrebbe perso la partita però così non è tutti e due vanno in una giocata di macro quindi il terreno ha del tempo per rimettersi in carrezzata anche se sta finendo lo stimp anche il più uno lo zerg mi pare non abbia upgrade di nessun tipo ha giù le camere evolutive almeno e sta buttando giù adesso un macro azzeri il nido dei banning buttando giù questa base addirittura questa base attenzione qui lo zerg è partito è giocatore di alta lega zerg se non li tieni sotto pressione costantemente 6 minuti 5 basi in zero ragazzi quindi capite bene che dovete pressare continuamente e riescono anche a tenerti una linea di produzione lunga come quella del terreno e sappiamo che il terreno deve avere una linea di produzione veramente immensa viking spazzato via questo buff delle regione devastante sta massacrando il povero MC Gregor prova ora con degli marine steampaccati a frontezzare la possente armata di Queen i marine sono ottimi contro Queen ci sono comunque anche degli zerglini che tancano il danno quindi cosa migliore per il terran prendere e scappare e far combattere questi i marine per fare del danno non più significativo giù dei creep dei bio tumori come se non ci fosse un domani ormai il creep è arrivato nella base del terran e gli negherà eventuali espansioni di certo questa parte della mappa al di sotto della linea che sto puntando con il mouse o il puntatore è inaccessibile per il terran mentre lo zerg può puntare a questa base o comunque tagliandola in questa parte lo zerg può ugualmente puntare a questa parte della mappa mentre per il terran questa parte qui è veramente off limits partono anche gli upgrade per lo zerg che sta ricercando l'1-1 qui il terran fa quello che può attenzione perché le regine possono fare malissimo non cadono fortunatamente le medieva che riescono a droppare in un altro punto i marine forse dovrebbero essere droppati di fronte al tank per fare una linea per difenderlo qui le medie le regine riescono comunque a raggiungere le medieva che moriranno in un modo orribile ragazzi vediamo se c'è un punto dove le regine non arrivano mamma mia e qui a questo punto usa il boost perde una medieva qui ragazzi veramente abbiamo visto una cosa che fa una pena incredibile qui deve droppare per non rischiare di perdere le medieva droppa droppa mamma mia ragazzi che mazello che ha fatto lo zerg terram forse un po' in confusione forse un po' spaisato anche da questo aumento del danno delle regine sta di fatto che non riesce ad essere incisivo per niente non ha fatto alcun tipo di danno un altro macro azzeri in questa posizione base finita base finita lo zerg può iniziare a cagare in unità come se non ci fosse un domani questi 58 zerglini poi vedrete diventeranno tutte mutalische quindi fra un po' quando lo zerg deciderà di vincere la partita andrà con ultralische in the face of poor terran e qui è già devastante tenere questi zerglini vedete il terran sta buttando giù caserme come se non ci fossero domani grazie al tank riesce a resistere marine stimpaccati con l'1-1 provano a fare il meglio che possono ma poi se andiamo a vedere ci sono comunque 3, 4, 5 6, 7, 8 caserme per il terran una sola fabbrica mi pare di aver visto due fabbriche ok uno star quindi una macro veramente molto solida gli upgrade che stanno tenendo sul terran in questo momento altrimenti avrebbe già perso uno zerg che ha puntato tutto sulla macro sacrificando un po' il suo potere offensivo link comunque ti garantiscono una mobilità sulla mappa non indifferente quindi riesci a muoverti velocemente in confronto per esempio a un esercito di blatter e avezer che invece subisce di più questi continui drop del terran che in questa fase della partita è diventato comunque più offensivo e ciò è un'ottima cosa provando anche dei multi drop non credo sappia che qui c'è una base altrimenti avrebbe già iniziato a bombardare di drop infatti non lo sa zerg che fa la cosa migliore quando siete pressati da qualsiasi cosa drop di terra mutalisca eccetera dovrete andare ad attaccare l'avversario nella sua base anche perché il terra si può usufruire comunque di un continuo spawn di unità soprattutto nella sua base mentre quando attacca il terra è proprio malissimo cioè le unità che devono essere portate da una parte all'altra della mappa rallentano veramente tanto le giocate terra ma comunque che non ne può fare a miliardi come uno zerg istantaneamente o come un protos che ti apre i portali e ti droppa infinite unità il terra comunque deve produrre un'unità alla volta il tempo di produzione dei marine è relativamente poco infatti si vedono tantissime giocate di marine marine unità migliore per il terra per la sua versatilità per il suo costo efficienza per il suo tempo di produzione veramente esiguo e per la possibilità di stimpaccarlo però si sente a mio avviso la mancanza di qualche unità più incisiva nell'esercito della terra magari anche più costosa però unità che può fare veramente del grosso danno il tank è l'unità che nel mio parere assomiglia di più allo stereotipo di unità che ho dato in questo momento ma non spara in aria è un po' limitata come unità questo fatto del trasporto con la medievac l'ha sicuramente reso più efficiente in League of the Void soprattutto unendo il boost della medievac con la possibilità di muovere il tank in modalità siege ok arrivano le ultralische ultralische in questo momento sono 2-2 quando le ultralische arrivano 6-3 quant'è che è il massimo 7-4 una roba del genere vi massacrano non potete farsi niente anche perché dovreste avere dei ghost poi il terran con questa sua basi praticamente finite fare dei ghost non può se il terran andasse a prendere altre basi lo zerge lo agninterebbe soprattutto perché il terran non ha la facoltà di difendere più zone nello stesso momento soprattutto se giochi con dei tank anche per questo il terran deve costantemente pressare l'avversario questo tank io lo stenderei e poi sposterei i tank vedete qui quel tank doveva essere spostato necessariamente il tank deve stare dietro altrimenti diventa abbastanza abbastanza inutile non può fare il suo grosso danno alle ultralische regine in più che fanno da anti-air praticamente un anti-air mobile anche perché quando c'è un creep del genere le regine sono molto lenti fuori dal creep ma all'interno del creep è un anti-air fantastico e qui il terran perde la partita praticamente non può fare niente sta provando uno switz marauder ha girato tutte le caserme no 3 4 le ha tenute con il reattore 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 e togliendo lo star person 8 quindi tenendole solo la metà con il reattore la metà con monotecnologico comunque non ti cambia di tanto marauder che si sono forti ma in questo momento della partita non te la possono girare soprattutto bottissima il microfono soprattutto perché non hai il potere di farli in gran quantità come se fossero unità facilmente riciclabili e in più ho visto abbastanza a volte i tank non in modalità siege anche se vengono comunque carriati pesantemente dalle mutalischi che ti li puntano e ti fanno veramente tanto male veramente forte questo zerg forse il terran ha pagato il non arrasare lo zerg dalle prime fasi della partita un vibe che si aggiudica un buonissimo game io ragazzi vi ricordo di commentare mettere mi piace al video iscrivervi al canale se mi piacciono i contenuti che porto su youtube il cast per oggi si conclude qui noi ci vediamo con il prossimo video ciao a tutti ragazzi